mi trovo in via cavallotti precisamente tra corso umberto e via di palma nel pieno centro umbertino guardate un cratere non una bucca non uno sprofondamento un cratere vero e proprio il manto stradale e sprofondato di almeno 15 20 centimetri se non di più anzi forse un mezzo metro anche e andando proprio all'interno e vedete nella solita prassi si mette chiaramente la transenna polizia locale e chi si è visto si è visto e da giorni oltre un mese la situazione giace così abbandonata a se stessa eppure non credo che ci vorrebbe molto ad intervenire quantomeno per salvare il salvabile quantomeno per mettere dell'asfalto ovviamente in modo che resiste che poi non si crei un ulteriore successivo sprofondamento ma stiamo parlando del borgo umbertino che evidentemente giace nello stesso grado di degrado passatevi l'espressione delle periferie è uno scempio la transenna e così vedete tutta la città si trova in questo modo buche sprofondamenti transenne e chi si è visto si è visto evidentemente in queste buche il sindaco melucci intende seminare la rinascita vergogna